Ciao a tutti ragazzi da 4.9 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video Eccoci ragazzi sugli extra di Inazuma Eleven Gokono Stones Tuono Allora ragazzi oggi è il giorno della rivincita È il giorno della rivincita ragazzi, non dobbiamo assolutamente sbagliare Ho modificato la formazione una volta ancora E ho messo lo schema Raymon Che in un certo senso è un ritorno alle origini Vedete un po' la formazione Perché ho fatto questo? Perché sono sbagliare addirittura l'unica difesa a 4 di tutti gli schemi E io volevo assolutamente una difesa a 4 per difendermi al meglio Sperando sia azzeccata come scelta Allora, come vedete è aumentato il livello della squadra Spero basti, spero davvero basti Tra l'altro sono appena tornato ragazzi Quindi devo un po' fare, diciamo, confidenza ecco Poverò il mio solito schema E vediamo ragazzi come va Sperando ovviamente che varrà tutto bene Abbasso un po' oltre il medio non mi sentite neanche E andiamo subito ragazzi con la mia tattica Miximax e spirito volero di Victor Che è lui sempre ad aprire le danze E perché mi fido di Victor E perché è un gran fortissimo giocatore Ok, mi avete detto ragazzi tanti consigli Io vi ringrazio davvero tantissimo Sinceramente sto registrando questo video proprio quando sta uscendo Il video di ieri, di ieri sera Quindi quello di praticamente delle sfide La prima parte delle sfide Volevo fare un'altra Poi ho detto no dai Sono già al 73 come avete visto Quindi ci provo Ok, non è bastato adesso Mi sono ricordo solamente ora Quanto siano forti, porca miseria E vabbè, devo concentrarmi al massimo Quindi ragazzi Parlerò ma neanche troppo Perché appunto devo concentrarmi tantissimo Io metto lo spirito volero a Zan Come avete detto di mettere armatura E spirito volero e Miximax insieme Tutto quanto Guarda che giropalla Ma guarda che giropalla che fanno È un qualcosa di incredibile Incredibile Eh no, devo regalarmi di più Perché uno non può Ragazzi questo è incredibile Uno non può Da solo senza mosse Andare avanti a uno che fa una mossa Essendo in due Cioè questo è Sono già demoralizzato Ho fatto un po' poi Ok, Miximax di JP E tiro Vediamo un po' Mi avete detto armatura E di JP Con Miximax E in uno dei terreni Funziona Ho capito Ma dura una parata Non di più Quindi Non è che sia un granché come cosa Speriamo bene Devi pararla JP Devi pararla Bravo JP Ottimo lavoro subito di JP Andiamo avanti Come avete consigliato voi Fai Subito lì ragazzi Subito lì Dai Dai Porca miseria È impossibile Perché quando si rubano la palla Cioè non è che Non è che sia Non bravura mia diciamo Proprio perché quando si rubano la palla Non Non puoi togliere proprio perché Quattissima ossa Quattissima cosa Non funziona proprio Unico modo è prenderla col portiere Quindi con JP E aspettare Aspettare assolutamente ragazzi Che Un'armatura con Con Miximax Riesca a fare gol Ma per il resto è davvero difficile E a sfruttare questi momenti qui mi sa Ecco il spirito vero Posso metterlo solo che JP In questo momento Perché ragazzi Non posso mettere un centrocampista Qualcuno Proprio no Proprio non posso Perché devo difendermi Proprio di tutto ragazzi Per vincere Non bisogna subire gol Sicuramente Lo vedete proprio La superiorità ragazzi Di loro Proprio Tutta un'altra storia Tutta un'altra storia ragazzi Proprio È brutto giocarci Quattie perché Uno mi ha detto Che tipo ha vinto il 55 Scusami ma non ci credo Non ci credo proprio E Altri che mi dicono Sì beh 70 70 contro 70 Quando ce la puoi fare Forse Ho perso un po' la mano Un attimo qui Però Vabbè Qui Ho parlato Alla grande Quindi bravo Bravo JP Ma come fa L'ho appena passata Ma dai Non c'è neanche gusto Proprio perché Ci fosse un po' di sfida Almeno Dici Vabbè Non c'è neanche quella Per la GP Non ti serve Niente di più Che una semplice Presa Allora stop Allora stop E stavolta E stavolta me lo faccio Lo stop Perché Nonostante La difesa 4 Qua C'è poco tempo Per ragionare Sinceramente Allora io farei una bella cosa Victor Tu sei l'uomo chiave In questo momento Devi assolutamente Darmi una mano Falla correre Sta palla No Subito lì Non subito lì Perché subito lì Fai Voglio tutti avanzare C'è di tornare indietro Non avanzare Dai Poi si può saltare Porca miseria Mi fa solo che nervosire Questa partita Veramente Mi fa solo che nervosire Brava 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 Ma no Ma me l'ha presa Il volo me l'ha presa Ma non ci voglio credere io Non ci voglio credere Anche sto Sto vampiro Ecco Per non dire di peggio Qualcosa di incredibile Armatura DJ picco Menino dei reni Ma poi non c'è più niente E che faccio Ci attacchiamo? No davvero Questa la parerà Quasi senza problemi Insomma Il problema è dopo Quando l'armatura Sarà finita Ovviamente Quello che vi dicevo appunto Allora caro sor Tu devi venire Più vicino qui Coso che è sempre avanti Non so con la faccia Là in fondo Più vicino Siamo due squadre diverse Cioè proprio Staccate Fei Avvicinati Riccardo Aiuta Casomai qui E dobbiamo farcela Dai Fei Ok Ok Ho fatto anche Ma no Cosa devo fare Cosa devo fare Cioè non penso che Stiamo giocando male Io proprio Non sto giocando Perché non mi fanno giocare Io schiaccio Ma Me la prendono Non è che Non è che ci possiamo Far tanto Sinceramente Questo è brutto Che loro Già senza mossa Vanno avanti Con la mossa Figuriamoci Io spero Una partita Come quella Che era stata Quella in Azuma Japan Che c'era un dominio Assoluto Da parte loro Ma poi Abbiamo fatto un gol Non so di tutto Poi era finita Una a una Però comunque Abbiamo noi Aperto le danze Per così dire Quindi serve Importantissimo A fare un gol Ok Vediamo un po' E non c'è nessuno Allora Tu continui Andai un po' avanti GP Sì E poi la passiamo A Coso Riccardo Qui Quell'altro qua Che è sempre lontano E poi la passi Senza sbagliare Bravo Ottimo No Proprio l'armatura Cioè Tra tutti Che mi devo beccare Eccolo lì Mi devo beccare Almeno attacca Cosa vuoi che ti dica Almeno li togli l'armatura Sta roba Cioè Fra tutti Becco l'armatura Tacchione Che non sai altro Uh L'ho presa L'ho presa Colpo di scena incredibile L'ho presa Ok Non devo emozionarmi Devo andare Via 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 Ok Ora Non c'è tanto tempo Tanto tempo Cosa ho detto Non c'è tanto tempo ragazzi Di fare Quelli che Stanno attentini Perché qua bisogna usare L'armatura ragazzi E riuscire A Spaccare la loro difesa E riuscire a fare gol Ok Il doppio tocco va Voglio anche vedere di quanto Attenza i puntici sopra Eh Di abbastanza Sinceramente Bene 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 Sei solo Non sbagliare Spirito vorrei Ragazzi Del portiere Per chi non l'avesse ancora capito Che arriverà Ora Spero non sia montagna Almeno Perché se no Sarebbe peggio ancora Montagna No è albero È albero È albero ragazzi Vuol dire che È svantaggiato su di noi E se non li facessimo Anche la katana Che esantemo Che è tipo fuoco Col miximax È tutto ragazzi Viene un capolavoro Viene un capolavoro E siamo anche proprio Attaccati il portiere Miximax Armatura Katana che esantemo 700 700 ragazzi 700 Difficile da battere Pure maligno però Però è svantaggiato È svantaggiato Di pochissimo Di una ventina Con un paio di livelli in più Ce l'avevi fatta Assolutamente Ora qui Devo stare attentissimo Devo stare attentissimo Cosa sto aspettando? Perché hai aspettato così tanto A rinviare lì? Ok No 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 Andarla via Corri Tu corri E basta Carissimo Victor Non devi pensare ad altro Devi pensare a correre Adesso solamente di una ventina Di punti Non hai fatto gol Ce la possiamo fare Anzi Mi avevate addirittura detto Che il doppio tornato di fuoco Toglie più della Katana che esantemo Quindi Ragazzi Provo il vostro consiglio A mio rischio Pericolo Mi fido di voi Vediamo se toglierà più di 700 Sì Cioè Toglie come l'altro Toglie come la Katana che esantemo Quindi avete In un certo senso ragione 723 ragazzi Perché Proprio il portiere Era vicinissimo E quindi Attenzione C'è il Go Non ci voglio credere Ora Ovviamente Nuova risultata Sbloccata Grandissimo Ma Ragazzi Ora Se non fosse chiaro La cosa più difficile E tenere un risultato Perché Vi siete accorti Che JP Non ha più Lo spirito guerriero Ve ne siete accorti Verò Ecco perché Se no Faccio ricordare Io No 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 Via 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 Sta scadendo il primo tempo Quindi tranquilli 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 E' scaduto il primo tempo No 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 Tranquillo E' scaduto Siamo al trentesimo passato E' scaduto il primo tempo E siamo tranquillissimi Non può fare un tiro Dalla distanza A posto Fino il primo tempo 1 a 0 Loro sono fortissimi Ma Ehm Va bene Cioè comunque Sono contento Per quanto Abbiamo Diciamo Fatto schifo Un pochino Non ho fatto schifo Più che altro E' la superiorità Loro Praticamente No Ma va bene Va bene Va bene Signori Allora Lei attacca Attacca ragazzi Vuole proprio Farmi sfiancare Ma attenzione Va Victor va Victor va Victor va Importantissima Questa notizia Stop E andiamo avanti Di velocità E con Zanark Che arriva dietro Perché voglio vedere Se Victor Resiste Come Sì che resiste Sì che resiste No la tattica speciale No però Non la tattica speciale Porca miseria No Questo è proprio Un colpo basso Ragazzi Questo è un colpo Bassissimo Perché Ero lì Ero lì davanti Potevo far gol Invece adesso Mi tocca ripartire Da chissà dove Che brutta cosa Devo fare in modo Che se vinco io Vado lì E basta In mezzo C'è Victor Victor ci sei Ho tirato So che ragazzi È un po' distantino Ma non ce l'avrei fatto Attivamente resistere Devo assolutamente Tirare Ok E andiamo ancora Allora ragazzi Che ci ha parato fortuna I doppio tonali di fuoco In collaborazione con Zanark Ragazzi Pum 684 Perché è un po' più stanco Anche più lontano Quindi sarà un Un 600 scarso O forse addirittura Nemmeno un 600 Infatti un 580 Contro il punto di cavità Dell'armatura Che ha 604 Davvero di poco ragazzi Stiamo giocando davvero bene Comunque Per quello che possiamo Ok Sfianca Victor Ma non vi preoccupate Sfianca Victor Ma ora abbiamo Il nostro Zanark Nella manica Tizione Bellissimo No Porca miseria No è Goldi sei tu giusto Goldi ti prego Sono tesissimo ragazzi Sono tesissimo Una polifonica La faceva O Gabby o Riccardo Mi sembra in luce E ora Cosa si deve fare ragazzi Abbiamo uno spirito oriero Anzi due Perché sono sfiancati Sia JP che Victor Uno Assolutamente ragazzi Ci sta per Il nostro difensore Prediletto Gabby Tra l'altro Ha più Goldi in difesa Perché non lo sapesse Però Gabby Mi piace di più Ok Dovevo farcela Perché Per il mese Per il mese Ce l'avevi fatta anche senza Usare il segno delle Varchiri Ragazzi ma Abbiamo visto che non c'è mai Così Vedete Vedete Perché ha un 600 Vedete perché ha un 600 E passa Noi facciamo un 500 così Mannaggia Non fateli andare avanti E mi sa che ce la faranno invece Tornate Tornate Tutti Bailong Stai facendo un po' Però vabbè Perché ti uso poco Sinceramente Hai ragione Hai ragione Ok ma almeno L'ha fatto perdere un pochino Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' No 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 È arrivato anche il momento Di Goldi Quando lo portiere sfianca Arrivano I due pilasti Difensivi I due centrali Goldi E Gabi Ok Accentate un po' Cara Goldi Ed ecco la tua freccia Bagliante Mamma che tensione Ragazzi Non posso far passare Nulla 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 Ragazzi Se no è finita Ok Ho la possibilità Di fermarmi un attimo E allora Mi fermo Un attimino Lui è veloce Non posso contare Sulla velocità Di miei Allora E quindi Cosa faccio io È lì in fondo Nulla nostra Goldi È un po' Complicato Passarla qua Ma io ci provo La passo Molto rischiosa Ragazzi Ho paura Tanta paura Potremo Passarla A Gabi Lì Qui precisamente E poi Passarla Subito Avanti Che so Di trovare Arion E poi Lì ci sarebbe Casomai Zanark Pronto A ricevere Ci proviamo Proviamoci Subito Avanti No E beh Gabi Che ti sei fumato Adesso Gabi Non tradirmi Non tradirmi All'ultimo Così dai Che brutte robe Allora No c'è anche Gabi Coinvolto in questo Contrasto No no Perché mi dici questo Perché mi dici questo Cosa c'entra Gabi Guardi che speciale Non c'ho più punti Io non c'ho Non c'ho più punti Non c'ho Tonno scuro Ecco ci mancava solo tonno scuro Ecco tutti a terra Che bravi Veramente bravissima Bella squadra 628 Ciao ciao Qui ragazzi Mi sa che il gol Non lo facciamo mai più Il problema Quello potrebbe essere Il problema L'unica diciamo Soluzione Quello potrebbe essere Potrebbe Dato che ora Il portiere Ha l'armatura Farlo sfiancare Ci sarebbe Se sfianca il portiere Potrei ancora ancora Forse farcela Ok A chi mi affido Ovviamente A Zanark Ovviamente Direi A Zanark La parte più sicura Questa neanche tanto Perché c'è Lo spirito guerriero Però se salto uno Salto anche lo spirito Di conseguenza Direi quasi Quindi facciamo così E ci proviamo Ragazzi Sfianca il portiere Questo è quello Che volevo vedere Ottimo Perché c'è uno spirito Rello subito lì E' così veloce Porca miseria Ok Come detto prima Non bisogna essere Perfettini Saltiamo tutti Andiamo E' così veloce E' così veloce